Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Si stanno concentrando in un'area sempre più circoscritta le ricerche di Giulia Tramontano, la 29enne, incinta di sette mesi, di cui da sabato sera si sono perse le tracce. La donna è sparita dalla sua casa di Senago, nel Milanese. Quattro giorni dopo la sua scomparsa, su disposizione della procura di Milano, carabinieri, anche della scientifica, vigili del fuoco e protezione civile, con l'aiuto dei cani molecolari, stanno passando al setaccio una zona all'interno del parco delle Groane, in parte boschiva, vicino a un campo da baseball, a circa due chilometri dall'abitazione dove la giovane vive con Alessandro Impagnatiello, il fidanzato trentenne indagato per omicidio volontario. Con lui, prima di svanire nel nulla, la donna ha avuto una lite pesante. È stato proprio lui che nel pomeriggio, dopo essere rientrato, ha denunciato la scomparsa della compagna lasciata all'alba nel letto, ha spiegato. Mentre dormiva e che poi si sarebbe allontanata solo con il passaporto, il banco matte 500 euro in contanti, ma senza portare con sé gli abiti. Intanto, nel fascicolo di indagine è stata iscritta l'ipotesi di istigazione al suicidio. Un titolo di reato tecnico per svolgere tutti gli accertamenti su un caso nel quale non si esclude nulla. Per questo, dopo che martedì le ricerche si sono concentrate nel canale Villoresi e nel Seveso.